Ciao a tutti amici YouTube e benvenuti in questo nuovissimo video. Ritorniamo a parlare di scope elettriche perché non solo è una categoria su cui c'è sempre molto più interesse, ma soprattutto si sta evolvendo in una direzione che personalmente mi piace tanto. Non solo sono dei dispositivi che sono molto più comodi per quanto riguarda la pulizia di tutti i giorni, anche quelle più approfondite, ma diventano sempre più smart. Non nel senso che ci sono sempre più accessori, ma proprio che si possono iniziare a controllare tramite applicazione. Abbiamo già visto la Redmi X30 Pro che fa questa cosa, anche se l'applicazione funziona solamente tramite Bluetooth. Questa di cui parliamo oggi invece si connette proprio tramite Wi-Fi. Parliamo della LG Chord 0 A9 Compressor. Un nome lunghissimo per una scopa che, guardate, ha come caratteristica il fatto di essere piuttosto compatta. Perché? Perché ha un tubo telescopico regolabile su quattro posizioni. Questa è una delle tante chicche di questo dispositivo, ma prima di continuare con la recensione completa, perché c'è tanto, tanto di cui parlare, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'aveste fatto e attivare la campanellina delle notifiche. Solo in questo modo potete supportarmi davvero e permettermi di creare contenuti sempre di maggiore qualità e interessanti. Per il resto potete anche seguirmi sul mio canale Telegram dedicato alle offerte. Il link lo trovate sempre qui sotto nella descrizione. LG Chord 0 A9 Compressor arriva in diverse versioni. I prezzi sono abbastanza alti. Si parte da 699€ fino ad arrivare a 899€ della versione che ho io in prova. Cosa cambia? Beh, la dotazione dei accessori. Quindi andate a monitorare e vedere esattamente quali accessori compongono ognuna delle versioni in modo da capire quelle più adatte alle vostre esigenze. Oggi vedremo una panoramica completa in modo da poter dare la migliore idea su ciò che davvero vi serve. Innanzitutto vediamo com'è fatto perché LG ha adottato delle soluzioni parecchio diverse rispetto a quella dei tanti altri competitor. Prima di tutto corpo motore. Guardate quanto è compatto. Questo significa tanta leggerezza e facilità di manutenzione. Il filtro infatti è facilmente accessibile dalla parte superiore, è tranquillamente lavabile, va sciacquato sotto l'acqua, è fatto asciugare per un minimo di 24 e per un massimo di 48 ore a seconda della temperatura ambientale e l'impugnatura è davvero confortevole. Tra l'altro come potete notare non c'è il classico grilletto perché? Perché LG ha adottato una soluzione a pulsanti. Tramite il pollice andiamo ad agire sui tre pulsanti quindi possiamo accendere e spegnere l'aspirapolvere, possiamo tra l'altro regolare anche la potenza. Ci sono tre livelli regolabili e poi tenendo premuto il pulsante più per tre secondi andiamo nella modalità turbo che è sicuramente la più efficace ma è anche quella che fa scaricare più velocemente le batterie. Non c'è un display che indica l'autonomia residuo, abbiamo solo questo piccolissimo di mini display diciamo con l'indicazione della batteria con le tacche che indica appunto quanta batteria rimane ma non abbiamo una percezione precisa di quanti minuti effettivi abbiamo a disposizione. Giudicate voi se questa è una mancanza o meno o meno perché si chiama compressor, scusate il gioco perché c'è questa levetta che come potete vedere abilita una membrana, una spinta che fa comprimere appunto lo sporco all'interno del serbatoio. Cosa molto utile per esempio per chi ha animali in casa, i peli sono molto voluminosi, quando vengono risucchiati occupano tanto volume e tendono a riempire in fretta il serbatoio. In questo modo li comprimete e poi sarà più facile anche l'estrazione e la pulizia. Infine la batteria, batteria che è removibile come potete vedere è molto semplice rimuoverla, ha questo colore giallo che la rende facilmente individuabile, una scelta che secondo me ha senso perché a volte le batterie se sono troppo scure tendiamo ad appoggiarle nei mobili o magari le perdiamo accidentalmente e poi non le troviamo più. In questo modo, un colpo d'occhio, sappiamo esattamente dove sono, ce ne sono due nella confezione. Vediamo poi cos'altro c'è nella confezione, oltre al tubo telescopico e alla spazzola multisuperfici con setore dure abbiamo questo accessorio qui, scusate se mi muovo. Questo è un accessorio unico praticamente nel suo genere perché è un accessorio che consente di lavare i pavimenti ma non è passivo, bensì è attivo. Non solo infatti consente di aspirare ma ha due rulli rotanti, tra l'altro di questi panni ce ne sono quattro in confezione che vanno proprio ad agire in maniera attiva sul pavimento andandola praticamente a lucidare e a rimuovere anche lo sporco residuo utilissimo per esempio nel caso in cui si versi un liquido colloso come può essere una bevanda zuccherata va ad asciugarsi e poi con queste spazzole possiamo veramente agire e strofinare in profondità. Dopodiché abbiamo altre due spazzole quindi quella per i pavimenti delicati quindi un rullo morbido e la mini spazzola utile per andare a pulire tappezzerie, poltrone e materassi e quattro accessori tra cui un tubo flessibile molto utile nel momento in cui dobbiamo pulire superfici molto in alto comunque difficili da raggiungere e vari beccucci che consentono appunto di andare ad agire veramente su tutte le superfici. Infine la docking station la vedete qui anche questa è molto compatta LG ha lavorato veramente tanto per ridurre gli ingombri sia della docking station sia dell'aspirapolvere e il tubo telescopico risulta davvero una mossa parecchio azzeccata. Tra l'altro è una tra le pochissime docking station che è non solo è così compatta ma permette di ricaricare simultaneamente due batterie perché voi andate ad inserire una batteria in questo modo e poi andate a mettere la scopa elettrica in questo modo e lei ricarica simultaneamente appunto contemporaneamente entrambe le batterie. Per quanto riguarda la connessione wifi ovviamente questo aspirapolvere è compatibile con la piattaforma LG FinQ che si sta evolvendo e che integra tantissimi dispositivi di LG tramite l'applicazione abbiamo accesso alle statistiche di utilizzo ma anche a varie notifiche che ci permettono di ricordarci quando effettuare i vari intervalli di manutenzione come la pulizia ma anche la pulizia del filtro. Tra l'altro abbiamo una statistica precisa di tutte le varie modalità che andiamo ad utilizzare e questa può essere utile perché ci rendiamo subito conto di quale modalità andiamo a utilizzare più spesso proprio perché in realtà la LG Core Zero A9 compressor non è dotata di una modalità automatica come alcuni dei suoi competitor però è anche vero che andare a gestire le varie potenze di aspirazione è molto più semplice con impulsanti più e meno. Tra l'altro nell'impugnatura c'è molta attenzione proprio perché come vi ho detto più volte nelle recensioni di altri scopi elettriche i manici in plastica tendono un po' ad essere scivolosi. LG intelligentemente ha inserito un inserto in gomma nella parte superiore e questo aumenta sicuramente il grip. Andare ad usare questa scopa elettrica è davvero molto molto maneggevole. Come si comporta per quanto riguarda la potenza e l'aspirazione avere quattro livelli di potenza selezionabili è sicuramente un grandissimo aiuto perché questo ti permette di andare a gestire la potenza in maniera manuale per ogni singola superficie che vai a pulire. Non solo sui pavimenti duri dove l'aspirazione e il motore Smart Inverter che tra l'altro garantito per ben 10 anni garantiscono una potenza davvero eccezionale. Non ho notato alcuna differenza con prodotti della stessa fascia di prezzo. Quindi parliamo dei vari Dyson V11, lo stesso Redmi X30 ma anche la Tineco Pure One S12 che ho in prova e di cui vedrete il video non so se prima o dopo questo LG Core Zero perché pulisce comunque tantissime in profondità. Ho notato però alcune differenze per quanto riguarda la pulizia di superfici particolari come per esempio i tappeti. Mentre altre soluzioni tendono con i tappeti più sottili quindi non quelli pelosi a risucchiare il tessuto e quindi poi a bloccarsi con questa LG questa cosa non mi è successo proprio perché i vari livelli di potenza intermedi permettono alla spazzola di andare a pulire in maniera efficace e profonda andando a rimuovere anche lo sporco che si va a depositare sulle setole del tappeto senza però risucchiare poi tutto il tessuto. E questo è sicuramente una cosa davvero molto comoda perché non vi permette di pulire con continuità senza fermarvi. Poi la presenza di così tanti accessori vi consente senza dubbio di andare a pulire non solo il pavimento ma anche le superfici, di utilizzare l'aspirapolvere anche per esempio come aspirabriciole e quindi di averne un uso molto molto a 360 gradi. Ecco forse l'unica piccola pecca della connettività wifi è che essendo continuamente connessa e monitorabile la batteria si scarica anche quando non lo usate quindi uno di quei aspirapolvere che voi comunque quando smettete di utilizzarlo dovete mettere sulla docking station. Tanto la batteria e il sistema di ricarica sono fatti in maniera intelligente per cui una volta carica al 100% si stacca la ricarica e questo non va sicuramente a danneggiare la batteria. Batteria che è facilmente reperibile sul sito ILG ma anche su vari siti e vendor di terze parti. Una scopa elettrica che convince senza dubbio per quanto riguarda l'autonomia arriviamo fino a 120 minuti con le due batterie ovviamente utilizzando la modalità eco tra virgolette quella a potenza più bassa se invece andiamo ad utilizzare la massima potenza siamo nell'ordine di 10 minuti. Quindi diciamo che non sorprende sotto questo punto di vista però la facilità con cui si rimuovono le batterie e la possibilità di poterle ricaricare entrambe nello stesso momento sicuramente dà uno step in più rispetto a tantissimi altri concorrenti tra cui anche lo stesso Dyson V11 che come vi ho detto nel video non permette la ricarica simultanea di entrambe le batterie. Secondo me una piccola pecca a cui si poteva porre il rimedio durante la progettazione. Per il resto rimangono tutti i cliché delle scope elettriche. Il sistema di aggancio e sgancio è sicuramente particolare guardate riesco a rimuoverlo. Qui la plastica trasparente può dare una sensazione di fragilità a primo impatto però vi posso assicurare che è davvero molto molto solida e resistente. Negli agganci ci sono anche contatti che trasmettono la corrente agli accessori motorizzati. Altro dettaglio che vi fa capire quanta cura LG abbia messo in questo dispositivo è che nelle spazzole grandi, quindi questa è quella con le settore morbide, davanti è vero non ci sono i led che in alcuni casi sono utili però quella è una scelta tanto personale. Secondo me sì sono utili ma non sono indispensabili, alla fine è importante che l'aspirapolvere pulisca bene, non che illumini dove pulisca, è sicuramente un aiuto in più per chi invece lo desidera. Qui abbiamo una chicca che in altri aspirapolveri non ho trovato, ovvero nella parte frontale c'è una piccola parte in tessuto morbido che ti permette di andare ad avvicinarti, davvero ad appoggiarti praticamente con la spazzola motorizzata sui mobili senza rischiare di danneggiare né il mobile né l'accessorio di pulizia. E queste sono piccole attenzioni che poi nella vita e tutti i giorni diventano degli aiuti non da poco, che consentono di utilizzare l'aspirapolvere senza pensieri, con più serenità, senza paura di andare a danneggiare i mobili involontariamente. Tra l'altro il tubo telescopico regolabile su quattro posizioni è molto user friendly, perché? Perché la maggior parte degli aspirapolvere robot hanno un tubo telescopico fisso, ma se noi umani siamo tutti diversi per natura e c'è chi è più alto e c'è chi è più basso, con l'LG Core Zero riuscite ad avere sempre un'ottima ergonomia, con altri aspirapolvere, con altre scope elettriche di questo tipo invece dovete adattarvi e in alcuni casi potrebbero essere fin troppo corti, in altri casi potrebbero essere fin troppo lunghi. Quindi avere la possibilità di poter regolare il tubo a seconda delle proprie esigenze e delle proprie preferenze è sicuramente una chicca non da poco. Per quanto riguarda la questione prezzo è sicuramente alto, però si posiziona in una fascia di prezzo in cui gli altri competitor comunque offrono soluzioni alla pari, per quanto riguarda la potenza di espirazione, però per quanto riguarda il comparto smart e soprattutto la presenza di accessori e l'ergonomia di utilizzo, LG riesce ad offrire leggermente di più. Ovviamente è una scelta molto personale, però vi consiglio comunque di valutare seriamente questo LG Core Zero, perché è solido, robusto, ha tanto da dire e soprattutto presenta anche in questo periodo in cui il polline e gli allergeni sono davvero tanto diffusi, un sistema di filtrazione a ben 5 strati. Quindi ci sono vari filtri che vanno ad intrappolare fino al 99,99% delle particelle più piccole e questo vi permette di avere un'area in estrazione praticamente pulita, di andare a catturare tutto quel pulviscolo che normalmente vedete per aria, quando per esempio un raggio di sole entra tra le vostre finestre. Mi ha convinto tantissimo, sono davvero contento di averla provata, devo essere onesto, la tecnologia compressor, ripeto, si può essere utile in determinati casi, come per esempio nel caso di chi ha peli di animali, peli che tra l'altro non rimangono ingarbugliati nella spazzola, nonostante non ci sia un sistema apposito per quanto riguarda l'antitengolo, quindi la capacità di evitare ingarbugliamenti, spazzola che tra l'altro offre un'ottima direzionalità, è davvero tutto molto robusto, il gancio e anche il sistema di scorrimento che si basa su questa rotellina nella parte posteriore. Ripeto, ha soluzioni uniche nel panorama delle scope elettriche e ve lo posso dire perché le ho provate praticamente tutte, vi lascio il link per monitorare eventuali variazioni di prezzo qui sotto nella descrizione, fatemi sapere voi cosa ne pensate e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!